La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, partiamo subito con la nostra rassegna stampa, con la prima pagina del mattino. In apertura camorra l'urlo nel silenzio, dopo la mattanza dei baby boss state uccidendo Napoli, convertitevi, la politica abituata al sangue muta, le mamme devono ribellarsi, le poche risposte al disperato richiamo del Vescovo Battaglia. Sul centro pagina, Green Pass, dai portuali all'Ilva, prime aperture ai tamponi gratis, secco le regole per lavorare, controlli fino a 24 ore prima. Di lato, sbandate da Me Too, se non si può cantare nemmeno Mala Femmina, succede che ad Amici, programma Mediaset, in una sfida si balli su Mala Femmina di Totò e per due volte la parola che dà il titolo alla canzone ai due film venga omessa. Nell'assenza c'è l'improbabile futuro politicamente corretto, nel non cantato c'è il silenzio di chi non distingue, non contestualizza e finisce per non capire. Totò è doppio, come doppio talvolta triplo e persino quadruplo il suo linguaggio, dobbiamo a lui l'allargamento della lingua italiana. Di taglio basso, Salerno, le minacce per i voti, inchiesta sulle cop, altre due arresti agli ordini via chat. Andiamo avanti, in primo piano sul mattino le nuove regole da venerdì Green Pass per statali e privati, così si andrà al voto. Draghi firma gli ultimi di PCM, maggiore flessibilità degli orari di ingresso e uscita, chi non ha il certificato dovrà essere allontanato e sarà sospeso dallo stipendio. Il conto alla rovescia e agli sgoccioli venerdì prossimo, 23 milioni di lavoratori potranno entrare in azienda, ufficio, fabbrico, guidare un taxi, andare a fare una riparazione elettrica in una casa privata, prestare servizio come colfo badante solo e esclusivamente se in possesso del Green Pass. A chiarire gli ultimi aspetti di questa decisione, volta a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, la ripresa economica e i progressi della campagna vaccinale contro il Covid, è stato Mario Draghi firmando due di PCM, uno per la pubblica amministrazione e l'altro per il settore privato. E lasciamo questa pagina, rimaniamo ancora sul mattino, sempre per quanto riguarda i non vaccinati, Grillo alleato della destra, i tamponi siano gratis, il no di Orlando, un errore. La proposta di pacificazione del fondatore del Movimento 5 Stelle, lo Stato dovrebbe stanziare un miliardo, idea bocciata, sorpresa anche dal grillino Sibilia. Usiamo i soldi per le vittime del Covid. Beppe Grillo la definisce un'offerta di pacificazione, l'effetto che fa però al momento è proprio l'opposto. Il garante del Movimento 5 Stelle rilancia la proposta che sia lo Stato a pagare i tamponi ai lavoratori che non hanno voluto vaccinarsi e che dal 15 ottobre saranno obbligati a esibire il certificato verde. E determina così un'ulteriore spaccatura nel mondo politico istituzionale e dell'opinione pubblica, ancora turbata dagli assalti dei no pass di sabato scorso. Cambiamo argomento. Rimaniamo sempre però sul mattino. Il Vaticano ha l'immunità. Stop alle denunce per abusi. Per la Corte Europea non si può trascinare in tribunale la Santa Sede. E' uno Stato sovrano. La decisione pochi giorni dopo il rapporto francese sulla pedofilia, respinti 24 ricorsi. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il Vaticano non può essere trascinato in tribunale per atti e comportamenti attribuiti a sacerdoti e religiosi pedofili. Questo perché, come Stato, gode della propria immunità sovrana, invocabile anche di fronte a violazioni gravi dei diritti umani. Di conseguenza la condotta criminale di parrocio vescovi non può essere in nessun modo collegata alle decisioni della Santa Sede, sebbene vi sia un legame di tipo gerarchico strettissimo tra la curia e le istituzioni ecclesiali periferiche. La decisione di Strasburgo è importante e certamente non mancherà di sollevare polemiche, anche perché arriva a pochi giorni dal devastante rapporto francese sulla pedofilia, frutto del lavoro triennale di un'autorevole commissione indipendente dei vescovi, istituita dai vescovi d'Oltralpe per fare luce su abusi sessuali nella Chiesa di Francia negli ultimi 70 anni. Con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo su la città in apertura, minacce agli operai per il voto alla moglie Salerno, l'audio diffuso nel giorno delle elezioni arrestati, il vicepresidente della COP San Matteo e un suo collaboratore IPM, Izzo imponeva ai dipendenti Alessandra Francese, prima dei non eletti fra i progressisti e presto in consiglio comunale. Il retroscene, il villaggio di Natale, coni oggi nella bufera, l'inchiesta, gli amici di Zoccola, uno anche al Tar, e poi le intercettazioni dall'agro al Diano, tutti con Savastano. Di lato, Montesano, la morte di Dora, lite per gelosia, poi la tragedia, a Rocca d'Aspide, coltellate davanti al liceo Parmenide, studente ferito, battipaglia, beni confiscati, nessuna consegna, paralisi da otto mesi. Di taglio basso, la salernitana, sospiro, riberì, bonazzoli out per il francese, è solo una contusione, ma è allarme in attacco. E poi tifo e passione, la spezia sarà granata, i biglietti già sold out. Diamo un'occhiata al quotidiano del Sud, anche qui in apertura, la mala politica, mani sul voto, altri arresti. Ai domiciliari, Izzo e Coscia per l'audio minatorio ai dipendenti, il messaggio è circolato pochi giorni prima delle comunali. La candidata da favorire sarebbe stata la francese, prima dei non eletti nella lista dei progressisti. L'indagine sulle coppe è legata a un'inchiesta su appalti e camorra nel salernitano. Di lato, Eboli, forti tensioni, anche piegari con Mario Conte, a Fisciano, fatta l'aggiunta, molte conferme, resta fuori soltanto Pierri, salernitana, allarme in attacco, è indisponibile anche Bonazzoli. E poi, ragazza morta, dure le accuse a Enrico Coscioni. Questa era la prima pagina. In primo piano, sul quotidiano del Sud, G20, sull'Afghanistan, mandato all'ONU per coordinare tutte le attività. Draghi, soddisfatto. Un successo, una prima risposta multilaterale alla crisi. Mario Draghi definisce così il G20 straordinario sull'Afghanistan, fortemente voluto dalla presidenza italiana. Al tavolo, riunito in forma virtuale, non partecipano il presidente russo Vladimir Putin, il leader cinese, ma per il presidente del Consiglio ne è comunque valsa la pena. Non ci sono particolari motivi di politica estera a motivare la loro assenza. In ogni caso, il coinvolgimento delle due superpotenze, sicura, è stato costante in questi mesi dal ritiro della missione internazionale da Kabul. Ad oggi, le priorità per i grandi della Terra, la priorità è quella di dare una risposta comune alla crisi umanitaria. Lasciamo il quotidiano del Sud, diamo un'occhiata alla prima pagina di Cronache. Il titolo di apertura, audio e voti, due arresti. L'amministratore di fatto della Copp San Matteo, Gianluca Izzo, e Umberto Coscia, nel gruppo WhatsApp dei dipendenti, ha ritrovato anche un secondo messaggio. Pressioni per far votare la candidata nella lista dei progressisti, domiciliari per loro per 20 giorni. Sotto la testata, gli interrogatori, trema il palazzo, oggi parla Zoccola, domani tocca a Caselli. E poi Zoccola Landi, il dirigente di De Luca, trovava sempre una soluzione per quanto riguarda il bando per le spiagge libere. Gli sviluppi politici sul centro pagina aumentano i problemi. Per Napoli si pensa ad un'aggiunta tecnica con dentro anche Roberto De Luca. Tre professori universitari hanno detto no. E poi le accuse di Zoccola, che voleva farlo fuori, responsabile di tutti i mali, è il RUP Roberto Nobile. E il fatto, anche le tessere del PD nell'inchiesta, Adolfo Salzano chiama Zoccola, vogliono prendersi il partito, bisogna farle. L'intervista medicina anestetica presentata dal dottor Aquaro e a Battipaglia Visconti istituiremo l'assessorato al lavoro. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio. Riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura l'inchiesta Shock, minacce per i voti presi i capi della Coppa e i domiciliari Izzo è il marito della prima dei non eletti tra i progressisti. Mi aspetto tutti i consensi che ho contato. Terremoto giudiziario al comune, nuovo colpo della procura dopo l'arresto di Savastano e l'indagine che coinvolge il sindaco Enzo Napoli. In retroscena, Salerno pulita, la soffiata per l'appalto a Zoccola. E su centropagina, nelle intercettazioni, il cerchio magico dell'amministrazione, politici dirigenti ed esterni, ecco la rete di Palazzo Guerra. Sempre su centropagina. Il giallo di Dora, due verità al baglio dei medici e del RIS. La famiglia, verificare i segni di colluttazione. Il legale del fidanzato Antonio non c'entra, lui l'amava. Violenza tra adolescenti, umiliato dai compagni, ferisce l'amico che tenta di aiutarlo. Di lato la polemica, Movimento 5 Stelle e centrodestra, assedio al sindaco, faccia subito un passo indietro. Poi le scelte, la giunta, la grana della francese, anche tecnici, tra gli assessori. Questo per quanto riguarda ciò che è successo a Salerno. E questa era la prima pagina. In primo piano, il terremoto giudiziario a Salerno, minacce e voto pilotato, arrestati i capi della COP, Gianluca Izzo e Umberto Coscia, i domiciliari, il primo e il marito di una candidata dei progressisti. Mi aspetto, diceva nel messaggio, tutti i consensi che mi sono contato, l'audio inviato ai dipendenti alla vigilia delle elezioni. 24 ore dopo il blitz che ha gettato fango e veleno sul comune di Salerno arriva un'altra batossa. Altri due arresti nel cartello delle cooperative sociali, un'altra inchiesta che coinvolge il mondo della politica salernitana e il voto pilotato. Questa volta però, i fatti sono recenti, anzi recentissimi. La denuncia delle minacce inviate via chat ai dipendenti delle cooperative per condizionare il loro voto viene ufficializzata su Facebook dal consigliere di opposizione e candidato di Forza Italia Roberto Celano alle elezioni del 3 e 4 ottobre scorso e dal via alle indagini delegate dalla procura agli uomini della squadra mobile di Salerno. Tre gli indagati, due dei quali ai domiciliari almeno per 20 giorni come disposto dalla norma in violazione del testo unico in materia elettorale, ma le accuse più gravi sono di minacce e condizionamento del voto. Andiamo avanti, sempre qui sul mattino e sempre con la cronaca giallo, giallo di Dora, due verità al vaglio di Medici e Rissi, legale del fidanzato indagato, la Mave è caduta all'improvviso, lui non c'entra, il difensore la Greca ma vogliamo capire se sul corpo ci sono segni di colluttazione. Domani mattina alle ore 10 e 30 nella chiesa di Arena Bianca frazione di Montesano ci sarà l'ultimo saluto a Dora la Greca. Sono stati fissati infatti i funerali della trentenne deceduta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo un volo di circa 12 metri. Le autorità giudiziarie hanno rilasciato il nulla ossa per le esecue dopo l'autopsia che si è tenuta nella giornata di ieri all'ospedale San Carlo di Potenza. L'esame autoptico è durato circa 4 ore e tra 60 giorni ci saranno i risultati. Lunghi sono stati gli accertamenti nella casa di Potenza teatro della tragedia. Rimaniamo su questa pagina battipaglia la violenza marito geloso picchia la moglie viene denunciato. A Eboli a 81 anni con la squillo la scusa mia moglie è morta. A Ispani il comune batte telecom va rimosso l'impianto team. Cinghiali altrotto tra la folla al mercato poi entrano nel cortile della scuola è successo a Castellabate. San Mauro Cilento Caso Mensa scagionati sindaco politici e tecnici. Lasciamo il mattino ci spostiamo su cronache. In primo piano il terremoto politico a Salerno ora giunta tecnica di alto profilo con Roberto De Luca sarebbero stati contattati anche tre docenti universitari che avrebbero detto di no formazione sempre più lontana dopo la riconferma Napoli aveva dichiarato di lavorare in tempi record il terremoto politico e giudiziario che ha colpito l'amministrazione comunale di Salerno a soli sette giorni dal voto ha messo non poco in difficoltà il sindaco Vincenzo Napoli difficoltà che non sono solo legate alle indagini che lo vedono coinvolto ma anche alla formazione della giunta a poche ore dalla riconferma il primo cittadino aveva annunciato un'aggiunta in tempi record ma presto sono arrivate delle prime difficoltà i consiglieri più votati non dovevano essere parte dell'aggiunta mentre quelli meno votati sì anche per dare una continuità all'amministrazione precedente targata sempre Napoli i nodi stavano per sciogliersi o almeno si iniziava ad avere un quadro più chiaro della situazione anche se prima in occasione della proclamazione poi alla stazione marittima per ringraziare elettori e candidati il primo cittadino si era rifiutato di lasciare dichiarazioni lunedì il colpo di grazia gli arresti di Nino Savastano attuale consigliere regionale presidente delle politiche sociali a Palazzo Santa Lucia e di Luca Caselli dirigente comunale oltre che allo stesso Napoli indagato andiamo avanti sempre qui su Cronache Umpli Salerno unità e sinergia tra enti pubblici di regione comune proloco nella suggestiva cornice del santuario di Sant'Antonio a Polla si è svolta l'assemblea del proloco salernitane il presidente Nardiello auspica forte collaborazione tra gli enti lasciamo cronache e ci spostiamo sul quotidiano del sud sulla bussentina cinghiale sulla carreggiata scontro con un furgone mezzo distrutto animale morto e tanto spavento per il conducente a San Rufo Segugio nel dirupo i volontari della protezione civile Vallo di Diano lo salvano Bellizia agricoltura la quarta gamma registra aumenti positivi i dati di tendenza della cop Orto-Romi andiamo avanti rimaniamo sempre sul quotidiano del sud con quello che è successo a potenza l'avvocato di Capasso l'amava ora escosso parla Domenico Stigliani legale del fidanzato di Dora la greca il RIS di Salerno esegue nuovi rilievi nella casa della tragedia e anche qui sul quotidiano del sud a Polla proloco riunite vertice dell'UMPLI per il territorio di taglio basso a Sapri cambiano gli orari scolastici degli istituti gli studenti protestano e non entrano tensione ai corsi per i 5 indirizzi della scuola Carlo Pisacane e termina qui la nostra rassegna stampa vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona giornata